La Serie A di Torbol ad Averlino, la disciplina paralimpica farà tappa nel capoluogo erpino. Sabato e domenica appuntamento alla palestra scolastica del liceo Publio Virgilio Marone. Quello che mi aspetto è mettere un po' di luce nel buio della disinformazione. Siamo ritornati anche in questa situazione pandemica a svolgere attività agonistiche paralimpiche con il campionato nazionale di Serie A, dove vede appunto la compagine erpina a difendere quella che è la massima serie. Giuseppe Vitale guiderà Averlino. La squadra erpina sarà protagonista nell'impianto sportivo di casa messo a disposizione dalla dirigente scolastica Lucia Forino. Ospitare un torneo di Torbol ci dà la possibilità, l'opportunità di ancora sottolineare con i nostri studenti quanto lo sport sia uno strumento importantissimo per il benessere psicofisico, per superare difficoltà, per integrare, includere lo sport soprattutto in questo periodo ci consente di ristabilire quell'aspetto relazionale importante sia da parte di chi gareggia sia da parte di chi segue la gara. Quindi veramente siamo onorati e contentissimi. La sinergia risulta decisiva come confermato dal delegato provinciale CONI, Giuseppe Saviano. C'è molta sensibilità per quanto riguarda l'aspetto paralimpico, di dare più strutture, maggiore sicurezza per quanto riguarda l'attività dei diversamenti abili, ma non solo dei diversamenti abili.